Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale di Lorenzo Ciac. Oggi andiamo a parlare di un capolavoro, ma che dico di un capolavoro? Di un colossal, ma che dico di un colossal? Oggi andiamo a parlare di Skyscraper. Alla regia troviamo Rosen Tuber che dal 2004 gira film del calibro di Come ti spaccio la famiglia o Dodgeball. Capite che è figlio della commedia sto ragazzo, sto ragazzo è figlio della commedia e non solo della commedia, è anche figlio di un avvocato e imprenditore milionario. Nel 2002 il giovane Rosen si gira una pubblicità e nel 2004 decide di girare un film, appunto Dodgeball, così un po'... così perché gli andava. L'agente Will Seuer, interpretato da The Rock, è costretto a lasciare l'FBI dopo molti anni di servizio, a causa della perdita di una gamba. Will comandava una squadra di agenti speciali addestrati nella liberazione degli ostaggi. La missione prevedeva che Will e la sua squadra fecessero irruzione in una casa in cui un uomo si era barricato con moglie e figli, e stava minacciando di uccidere la sua famiglia per poi uccidersi. Will fa irruzione e cerca di neutralizzare l'uomo, ma l'uomo si fa saltare in aria e Will perde una gamba. Will viene portato all'ospedale e verrà operato dalla dottoressa, che poi diventerà sua moglie, ovvero Sara. Finito il flashback, arriviamo ai giorni d'oggi, in cui troviamo il nostro protagonista con la sua famiglia, ovvero Sara e due figli, Georgia e Henry. La famiglia si è trasferita a Hong Kong e Will indossa una protesi per la gamba di ultimo livello, che praticamente lo fa camminare come se non avesse nessun problema. E qui nasce la domanda, era veramente necessario strappare una gamba a The Rock per questo film? Cioè non bastava il gattacielo altissimo che lui dovrà scalare? No. Serviva proprio strapparci una gamba per rendere le cose più difficili, ma poi questa gamba non è che rende le cose così difficili, in realtà. Cioè viene inquadrata molte volte la gamba, ma la gamba fa il suo lavoro, ovvero quello di sorreggere Will. Alla fine è The Rock che combatte in un film d'azione. Non è The Rock che è senza una gamba e combatte in un film d'azione. Ci sono veramente tre scene in cui la gamba ha valore, cioè rende la cosa più difficile, rende l'azione che deve fare Will più difficile, o che rende la scena leggermente diversa da tutte le altre scene dei film d'azione, specialmente dei film in cui la gente deve arrampicarsi su per dei grattacieli. Perché ovviamente è anche inutile dirlo, questo film fa l'occhiolino ai dei arti con Bruce Willis. Non c'è tanta differenza, a parte che il grattacielo è più alto e che invece di avere Bruce Willis abbiamo The Rock. E tutto lì, la cosa è diversa. Il fatto che lui sia senza una gamba è una cosa in più, ma non è che rende la pellicola così straordinaria o difficile da compiere la missione che deve fare. La missione che deve fare è difficile perché devi arrampicare di super un grattacielo, che tu abbia o non abbia quella gamba di ferro super mega tecnologica, non è che si senta molto, almeno a mio avviso, specialmente nell'unico combattimento bello che c'è veramente in questo film, che è uno, che è il primo, quando lui combatte con il suo miglior amico, e non vi dico altro, ma intanto non è spoiler perché si capisce immediatamente, che è veramente un bellissimo combattimento perché sembra di vedere The Rock sul ring, è veramente bello quel combattimento lì, e quel combattimento lì The Rock è quasi sempre a mezzo busto. Cioè, le scene di azione, proprio del combattimento in cui si spintonano, si prendono a cartoni, sono molto frenetiche, il fatto della gamba non si vede. E quando lui ha problemi con la gamba, lui è sempre a mezzo busto, quindi non vedi neanche l'handicap di quest'uomo nel combattere, non la percepisci, la percepisci pochissimo, non c'è un'enfasi sul fatto che lui sia senza gamba, che è poi quello che ti ha portato a vedere questo film, e dici un film d'azione con The Rock che però ha perso una gamba e deve andare in cima al grattacielo più alto del mondo, che è altissimo, ovviamente inventato, non esiste, ma è altissimo, adesso non mi ricordo quanto è, tipo chilometri di grattacielo, si chiama la perla, il grattacielo, the pearl, e c'è questa palla da golf, da tennis in cima, bruttissima, va bene, ma delle cose ragazzi, ma delle cose, ma ci arriviamo. E da qui inizia il film, Will lavora nella sicurezza, il capo del grattacielo, il proprietario del grattacielo, ha bisogno di qualcuno che vada a fare un'analisi dei servizi di sicurezza, dei servizi antincendio, del suo grattacielo, prima dell'apertura dell'inaugurazione, e Will andrà a fare queste cose qua, e succederanno cose, ovviamente, come in tutti i film sui grattacieli. Partiamo a dire che dal mio punto di vista, personalissimo punto di vista, questo film è fatto un po' alla... come si potrebbe dire? Se mi permetti, a cazzo di cane. Esatto, non sono le parole che avrei usato io, però c'entrano al bersaglio. Diciamo subito che questo film è il film del accendi e spegni, e mi sembra già d'aver detto troppo, poi capirete vedendo il film, e se l'avete visto avete già capito, e non ditemi se a voi questa cosa qua non ha fatto rotolare le ciliegie per terra, ok? E già è una cosa che a me non è andata giù, proprio per niente, proprio per niente, proprio triggeravo di brutto. E poi, seconda cosa, molto più importante, questo qui è il film del ti spiego tutto a voce perché non so spiegartelo con le immagini. Allora non fai i film se non sai spiegare le cose con le immagini. La verità è che certa gente dovrebbe andare a zappare. Che è sempre una buona alternativa. Vogliamo parlare dei buchi di trama che sono tanti profondi e anche imbarazzanti. Qualcuno potrebbe dire in un film del genere la trama è relativa a parte che no. Non è relativa in un film la trama, ma è nella vita. Perché se la trama è relativa tu non stai facendo un film. E puoi fare arte con le immagini in movimento, con le immagini video, ma non stai facendo un film. Il film tendenzialmente è una storia, quindi tendenzialmente ha una trama e tu devi seguirla e devi spiegarmela con le immagini se vuoi fare un film. Se no fai un libro, ok? Che è fatto di parole. Ma se tu mi fai un film, per favore, tu mi fai capire le cose attraverso le immagini il più possibile. Ovviamente poi grazie al cielo, ma anche no a volte. Abbiamo messo l'audio nei film, quindi certo che lo usiamo. E lo usiamo anche bene con le musiche, mi fai capire le cose attraverso le musiche. il dialogo è relativo in un film, dovrebbe in teoria essere relativo e in questo caso qua, in questo film qua, non è relativo. Anzi, se ti perdi un solo dialogo fra i due personaggi, fra due personaggi X che parlano a caso, ti perdi metà del film, ti perdi metà delle cose che vedi, perché le cose che vedi sono legate alle cose che dicono, non solo dal punto di vista di come è concepito questo grattacielo, i suoi metodi di sicurezza, gli ascensori e via dicendo, ma anche dal punto di vista sentimentale di cosa provano gli attori, di cosa prova quel personaggio. Se tu ti perdi, se tu ti perdi una frase, questo film non lo capisci. Ed è brutta una cosa del genere. Cioè, a me piacerebbe di più che fosse se mi perdo un'immagine, questo film non lo capisco. Non se mi perdo una frase, questo film non lo capisco. A parte che c'è poco da capire. Ok? E va bene. E qui rientriamo nella logica del beh, va bene, ma in un film del genere la trama è relativa. Ma neanche di nuovo. Ma no. Ma no. Non dovrebbe essere così, ragazzi. Va bene. A qualcuno può piacere. Liberissimo, ma non può essere così. Se vuoi fare un film deve esserci una trama e tu devi farmela capire a immagine. Tendenzialmente. Altra cosa, i cattivi di questo film. Una cosa imbarazzante. Specialmente la ragazza dei cattivi è qualcosa di imbarazzante. A ogni passo sembra che gridino Madonna se siamo cattivi! Guardateci, siamo malvagi, siamo dei sofficini ripieni di cattiveria. guardatemi, io sono cattiva. Ho avuto un'infanzia difficile e sono cattiva. E dell'infanzia difficile non ne parla nessuno. Lo aggiungo io perché proprio lo vedi nei sentimenti, nelle espressioni che mette che questa persona qua ha avuto dei problemi da piccolo. Tanti problemi da piccolo. Anche se lei non ne parla. Quindi, facciamo finta che effettivamente la trama sia relativa. Questo film per cosa lo guardiamo? Per i combattimenti? Per vedere The Rock se riesce a salire su questo grattacielo, ok? Allora, se per il secondo motivo vi dico ottimo, guardatevelo, vi piacerà tantissimo. Probabilmente voi non avete visto Die Hard con Bruce Willis ma guardatevi questo film stupendo, meraviglioso. The Rock ha delle mani che sono fatte di, non lo so, di grafite. Sono veramente polpastrelli fatti in adamantio. Cioè, se io avessi delle dita così farei il gigolò. Hai voglia? Con quelle mani lì. Acciaio puro. Vabbè, se per il primo motivo, se voi guardate questo film d'azione per il primo motivo per vedere i combattimenti, mi dispiace, raga, dopo il primo combattimento che di cui vi ho già parlato, potete anche chiuderlo. Perché combattimenti belli dopo quello non ce n'è. E non ce n'è. L'ultimo, ovviamente il combattimento super finale, è una cagata. Allora, intanto io non capisco perché uno dovrebbe mettere in una sfera e vi ho già detto troppo. Forse questa parte qua la censurerò. O forse no. Non lo so. Magari ve la censuro subito e poi ve la metto senza censura alla fine. Fatto sta che di combattimenti belli. Dopo il primo, ed è veramente bello, a me il primo è piaciuto veramente tanto, è tantissimo. Un combattimento fatto benissimo, della Madonna, fatto bene. Parte The Rock a mezzo busto in cui non vedo se c'è una gamba di metallo o meno. Ma, a parte quello, ma tralasciamo la gamba di metallo. Ne abbiamo parlato, basta, non c'è più questa gamba di metallo. Anche perché poi il film si vede che se lo dimentica. C'è giusto in tre punti, ve l'ho detto, e poi basta. Quindi parliamo del film come se fosse un film d'azione normale dove il protagonista ha entrambe le gambe e fa quello che deve fare perché poi alla fine è questo. Cioè, ci hanno cercato di mettere una difficoltà in più a The Rock e non ce l'hanno fatta perché poi se la sono dimenticata perché poi hanno visto che effettivamente diventava veramente difficile fare le cose con una gamba di metallo e quindi hanno detto vabbè, accantoniamola un po'. Quindi non è un film che va a sensibilizzare sull'handicap, ok? È un film inutile da questo punto di vista. Poi abbiamo visto cosa può fare veramente una persona senza una gamba con una forte volontà, con una forza di volontà enorme. Le Paralimpiadi lo dicono, lo dicono le persone che vanno a scalare le montagne e vanno a sciare senza una gamba. Non hanno bisogno di The Rock per far vedere quanto valgono. Mi sono un po' perso comunque, di combattimenti belli ce n'è uno e basta, ok? Quindi se volete guardare questo film per vedere The Rock che dà delle mascate a qualcuno lo vedete una volta all'inizio dopo il primo masconi che si danno dopo la prima scena di masconi potete anche spegnere perché da lì masconi fatti bene non se ne vedono più. Comunque meno male che c'è Downey Johnson perché è veramente quello che si tira dietro tutto il film avanti e indietro a destra, a sinistra sopra e sotto cioè meno male che ci hanno messo lui e lui qui lo troviamo sia come protagonista che come produttore e forse è per questo che ci ha messo tutto se stesso in questo film perché ci ha messo anche gli sghei quindi e già che parliamo di produzione diciamolo il film è costato 125 milioni e ne ha incassato poco più di 300 e quindi a voi vi verrà da dire beh quindi non è andato malissimo andiamo a vedere un attimo all'interno di questi soldini qua da dove ne vengono quanti ne vengono da una parte quanti ne vengono dall'altra andiamo un attimo a vedere quindi in tutta l'America 68 milioni nel resto del mondo 236 quindi nel resto del mondo 236 solo in America 68 capite che è un flop ma perché il regista è nato sulla commedia io non capisco perché si sia messo in testa di fare un film d'azione sai fare le commedie Dodgeball è un film che lo guardi molto volentieri come ti spaccio la famiglia che adesso in inglese non so come sia uscito Famiglia Smithers mi sembra qualcosa del genere però è un film stupidissimo molto stupido però ha un suo apportamento io l'ho guardato non è che fossi proprio del settimo cielo di guardare un film del genere però due risate me le ha tirate fuori la trama è carina i personaggi sono fatti bene sono belli da quello che mi ricordo è un film molto piacevole sei bravo a fare le commedie e fai le commedie perché devi impelagarti impelagarti termine tecnico in un film che non è il tuo han detto facciamo ho i soldi facciamo il grattacielo più alto del mondo mai esistito che non esiste un grattacielo del genere però facciamo il grattacielo super mega alto prendiamo The Rock lo mettiamo a scalare con una trama fettizia lo mettiamo a scalare sto grattacielo e ha detto è un po' poco leviamo una gamba a The Rock e facciamo il trailer tutto sul fatto che lui sia senza una gamba e invece no non basta non basta non basta non basta per favore signor regista fai le commedie sei bravo a farle fai le commedie fai anche The Rock The Rock è anche bravo nelle commedie io ne ho visto adesso non mi ricordo i titoli ma dove The Rock deve far ridere far ridere perché è bello è bravo anche a far ridere fai ridere con The Rock prendi The Rock fatti una commedia tutta tua e vedrai che andrà benissimo forse l'hanno già fatto una commedia loro due quella di lui che gioca a rugby e c'ha la bambina e c'è la bambina che lo guarda un certo punto perché hai le tette quello lì è bello come film fa ridere è piacevole fai film così sei bravo perché ti devi impelagare in fin d'azione lasciali fare dagli altri in fin d'azione lasciali fare dagli altri quindi un cast della madonna perché anche gli altri sono veramente dei bravissimi attori e anche gli effetti speciali sono meravigliosi però sono usati sia cast che effetti sono usati per un film che non ha di spina dorsale perché non ha una trama non ha una bella trama non ha una trama spiegata bene secondo me punto di vista non ci resta che aspettare il suo prossimo film ovvero Red Noctis un altro film d'azione con The Rock Ryan non lui quello con delle espressioni facciali esatto lui e la bellissima Gal Gadot io spero vivamente ci porterà un filmone con una bella trama questi attoroni usati stra bene vediamo speriamo magari ci esce anche un filmone d'azione fatto bene chi lo sa o magari mi stupisce io non ci credo finché non vedo non ci credo ma ci spero quindi speriamo al meglio prepariamoci al peggio a me non resta che salutarvi qui vi ricordo Instagram vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e non mi resta che mandarvi alla prossima settimana ah no domani esce d'une ciao non capisco perché uno dovrebbe mettere in una sfera una stanza degli specchi non lo capisco comunque qui un'altra stanza degli specchi